Ha perseguitato l'ex moglie con minacce ed insulti e addirittura cercato di aggredire lei e i carabinieri intervenuti. Per questo un 39enne è finito in manette a San Giovanni Valdarno. La donna da tempo viveva un inferno quotidiano al punto che aveva deciso di rifugiarsi a casa del padre. E proprio questa notte attorno all'una l'ex marito ha bussato alla porta dove si era trasferita. I due prima hanno parlato ma poi si è cesa una violenta lite. Il 39enne avrebbe anche preso a calci e pugni l'auto della donna. Alle 4 poi l'uomo è tornato ad urlare sotto le finestre ed ancora alle 5 e alle 6. I carabinieri sono infatti dovuti intervenire più volte perché alla loro vista il 39enne si era sempre dato alla fuga. Alla vista delle forze dell'ordine l'uomo si è scagliato anche contro i militari. È così scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Una volta nell'auto il 39enne ha anche tentato atti autolesionistici sbattendo violentemente la testa contro i finestrini. L'uomo sarà processato per direttissima per la violenta reazione contro i carabinieri. L'ex moglie invece provvederà nelle prossime ore a denunciare formalmente quanto accaduto. Grazie. Grazie mille.